E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ragazzi Oggi andiamo a raggiungere le 20.000 coppe ragazzi E ragazzi le 20.000 coppe ce ne mancano 4 Solamente una vittoria E ci andiamo a prendere il premio Star Drop leggendario ragazzi Intanto andatevi, entrate anzi nel clan Valecol ragazzi E vi do la mia amicizia PP2JYY Non so se è una O o un 0 Provate tutte e due Vabbè O, O, 0, 9P ragazzi Quindi ragazzi andiamo a farci subito la prima partita Vinci 5 battaglie Tanto a noi ce ne basta solamente una E io scelgo di raggiungere le 20.000 coppe se riusciamo a vincerla Un brawler che amo molto Leono ragazzi Andiamo a giocare la partita Speriamo di vincere Oddio Vabbè Speriamo di vincere subito Dai Ok Abbastanza facile ragazzi Mi sa che l'abbiamo raggiunte Mamma mia Pochi giorni fa avevo Fatto il video in cui raggiungevo le 18.000 coppe Ora stiamo già a 20.000 Grazie anche perché il 31 No che giorno era in 14 giorni abbiamo fatto 1000 iscritti Perché stiamo a 10.000 dopo 14 giorni 11.000 Ragazzi vedevo ringraziare tantissimo per tutto il sostegno che mi date Con tutte queste iscrizioni Magari non ci andiamo a morire Ci godo Ora ragazzi con la super che abbiamo Che ci rende invisibili Possiamo andare a uccidere qualcuno Se lo vedo Perché sennò è inutile usarla Ok ragazzi Dovrebbe starci qui un bombardino Anche se forse me la posso Me la posso pure risparmiare Pure senza la super Ci riesco Perché il bombardino è abbastanza facile da uccidere Ci abbiamo 7 power up Ok 9 Ci andiamo a prendere anche Questi E sono 11 Io vorrei vedere se sta qua Eccolo Eccolo Ok Tutta vita Me lo tolgo dalla visuale così magari non mi vede Sono la super Attenzione Sì E ragazzi abbiamo raggiunto Vedete la nuova ragione Attenzione Attenzione 20.000 coppe ragazzi Dai E ragazzi 20.000 e 10 coppe Start up Leggendario Preghiamo Preghiamo Setti tutti 500 500 crediti Ci godo Meglio Volevo forse un brawler Però Wow 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 Però io raga Ancora Ancora no Niente E ragazzi Con 276 Ce l'andiamo a sbloccare subito Cosa che io Non farò che tanto è inutile E E da un po' che non trovo un brawler Comunque Raga Dentro Come si chiama Come si chiama Uno start up Leggendario Star drop Leggendario Sì Star drop Leggendario Quindi ragazzi Io mi vado a mettere Edgar Completiamo la missione E poi Noi ci vediamo alla prossima Quindi 20.000 e 10 coppe Ora immaginate Che tra l'altro Il brawler Che ha più coppe Edgar Quindi andiamo a perdere Immaginate Perdiamo E Ci toglie 11 coppe Cosa impossibile Perché 11 coppe Non le può togliere Però ragazzi Io mi sa che muoio subito No 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 660 Mamma mia Mi ha sfiorato Questo gadget Raga Non mi piace per niente Gadget che ci ho attivato Attenzione Non capisce Però io scappo E di qua c'hanno un altro No Mo' gli salto sopra Gli posso saltar sopra Godo Godo Però raga Non ci vado a morire spero Zitti andiamo di qua Se mi viene sopra Guarda Eh ma quanto toglie Madò Meno un Andiamo facendo un'altra Partita Non possiamo perdere Non possiamo perdere Comunque ragazzi Mi raccomando Dobbiamo arrivare a 30.000 coppie 30.000 coppie Eh sì 30.000 coppie Regà Ci dobbiamo arrivare Assolutamente Ok Considerate che l'amico mio Che ha più coppie È Lollox Che poi lollo si chiama Ne ha 32.000 Che sono tantissime Ce n'ha più di GGT Attenti Attenzione Vediamo 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 Questo Vi salto Sicuramente Sopra Uuuuh Solamente con la super Però Energetic È pericolosissimo no 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 meno 5 regà stiamo a 20.004 oddio mo scendiamo me l'immaginate perdiamo e 500 crediti però poi risaliamo e ce n'era un altro di start drop facilissimo se perdiamo questa veramente regà dai vieni mi uccide non viene sopra sì doveva venire sopra meglio comunque ragazzi secondo me quanto toglie secondo me per quanto toglie kit è troppo pure la super del gelindo ti manda non lo so in polonia mamma mia regà attenzione che qua ci andiamo a morire però io salto sopra oddio eh regà attiviamo lo scudo appena lo vediamo attiviamo lo scudo sì dovrebbe sta qua eh non qua rt dai dai regà e dai 500 a noi vediamo 500 500 star drop star drop star drop che sicuramente non è buono è epico calmi ah magari mi dava qualche gettone va bene ragazzi con la maestria come stiamo messi con lui vabbè manco male ma quant'è il massimo ah qui ah e ti danno ti danno il titolo scusatemi eh ma l'altro titolo a quanto ve lo danno? non ho capito un titolo mi sa che te lo danno a io la maestria più alta però chi ce l'ho? maestria ah ce l'ho con le on e ce l'ho con tutti questi oddio giochi quanto sta vicino vicinissimo vabbè ragazzi lasciate like se volete un video in cui completo qualche maestria a cui sono vicino da completare pure lui pure lui forse è grado 3 regà a cui sono vicino da completare quindi che so sti libri ah sono vicino quindi ripeto per 15 volte ha da completare e ragazzi io metterei sempre leon argenteo anche se ce ne ho 15 infatti ce ne ho 4 leon squalo e leon gattorandaggio raga mi piacerebbe tanto avere questa ovviamente e ragazzi noi ci vediamo alla prossima quindi andatevi a prendere il mio id ora vi lascio subito anche nel link si nel link vi lascio il link per la mia amicizia ve lo lascio anche nel titolo così ragazzi vi diciamo si vi iscrivete prendete la mia amicizia ragazzi noi ci vediamo alla prossima bella bella